3.32 della notte, 20 secondi di terrore, l'epicentro della scossa è a 10 km dall'Aquila, a 8 km di profondità. 3.32 della notte, 20 secondi di terrore. 3.32 della notte, 20 secondi di terrore, l'epicentro della notte, 20 secondi di terrore. 3.32 della notte, 20 secondi di terrore, l'epicentro della notte, 20 secondi di terrore. 3.32 della notte, 20 secondi di terrore. 4.32 della notte, 20 secondi di terrore. 4.32 della notte, 20 secondi di terrore. 5.32 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 della notte, 20 secondi di terrore. 6.32 della notte, 20 secondi di terrore. 6.32 della notte, 20 secondi di terrore. 6.3270 della notte 5.32 della notte, 21 secondi della notte, 6 secondi di terrore. Remember when I moved anew, the holy dark was moving too And every breath we drew was hallelujah Maybe there's a God above But would I have a love from love was how to shoot somebody who out to you And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's in the light It's a cold and it's a broken hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Halleluja, 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 halleluja Halleluja, halleluja, halleluja Halleluja, halleluja